Ciao signore e signori. Benvenuto nel mio canale e commentatore donna. Non dimenticare di seguirmi e di mettere mi piace ai miei video per le ultime notizie. Questo è importante per me. Anche l'attrice Kvans Tatiltu e Kvans Kasabal, noti per essere amici intimi da anni, si sono incontrati in vacanza. Kvans Tatiltu, che attualmente dà vita al personaggio di Aslan nella serie Family, è andato in vacanza subito dopo il suo progetto. Il bel attore, che non ha intenzione di tornare a Istanbul fino all'inizio delle riprese della serie, si sta godendo l'estate con la sua famiglia e gli amici intimi. Sua moglie Basak Dizer, che utilizza molto attivamente il suo account sui social media, non trascura di condividere il singolo fotogramma di Kvans Tatiltu e le pose familiari felici. Dizer, che in precedenza aveva pubblicato i fotogrammi della piscina del bel attore, ha caricato nuove foto. Questa volta, Basak Dizer ha fotografato i momenti che Kvans Tatiltu ha trascorso con il suo caro amico, Kvans Kasabal, che è anche un attore. La cornice di due amici intimi in posa a tavola è diventata l'agenda sui social media. Due Kvans insieme? I suoi seguaci hanno commentato due Kvans insieme.